Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Tarda l'ok al regolamento sull'occupazione di suolo pubblico e l'UGL Polizia interviene dicendo uno strumento utilissimo contro i parcheggiatori abusivi. E' inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il nuovo regolamento che sanziona l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione del suolo pubblico e proprio su questo tema scende in campo la segreteria provinciale dell'UGL Polizia di Stato per rimarcare l'esigenza di affidare ai tutori dell'ordine pubblico ulteriori strumenti per poter combattere ad armi pari contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un problema non di poco conto se si pensa quanto accaduto di recente al parcheggio Talet dove un parcheggiatore improvvisato ha rimosso le transenne facendo posteggiare le vetture sul piazzale soprastante del parcheggio pubblico. Risultato? Tutti gli automobilisti sono stati multati perché sul parcheggio Talet vige il divieto d'accesso mentre il parcheggiatore si è dileguato dopo aver incassato i soldi dagli incauti utenti e la strada ne è scaturita una divergenza di vedute tra coloro che difendono i parcheggiatori abusivi e quelli che vogliono stroncare il fenomeno. È una questione triste, afferma il segretario del sindacato di Polizia UGL, Giuseppe Salesio, perché per gli operatori delle forze dell'ordine non può che essere triste sentir criticare un provvedimento che finalmente consente loro di tutelare in maniera più efficace i cittadini, vittime di minacce, violenze e danneggiamenti solo perché si sono rifiutati di pagare il pizzo per parcheggiare il proprio mezzo sul suolo pubblico. La norma rimanda ai regolamenti di Polizia Urbana per l'individuazione di luoghi dove chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di aree urbane in cui esistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e soggetto alla sanzione amministrativa. Allontanamento, dice Salesio, prima di breve durata ma che in caso di reiterazione della condotta può variare da sei mesi a due anni. Effettivamente Salesio prosegue il regolamento che inoltre sanziona l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione del suolo pubblico è già stato posto al voto al comune di Siracusa ma tarda ad essere approvato. Allo stato attuale, in mancanza dell'adozione del regolamento, il cittadino molestato e minacciato può agire soltanto tramite denuncia querela e costituendosi parte civile nel procedimento penale che ne scaturisce con tutti i disagi del caso. Nel piano triennale dell'Asp 8 di Siracusa ha prevista l'assunzione di 68 infermieri. Sarebbero troppo pochi però, secondo il segretario del sindacato Nursind, Vito Fazzino. Dal nuovo piano triennale 2017-2019 approvato a giugno dall'Asp 8 emerge che solo 68 infermieri saranno assunti all'interno della rete ospedaliera siracusana di cui 28 unità saranno reclutate dalla gradutoria del bacino orientale, 40 unità mediante stabilizzazione. Lo afferma Vito Fazzino, segretario territoriale del Nursind, del sindacato delle professioni infermieristiche che aggiunge Il Nursind considera tale numero del tutto esigua, al di là delle modalità di reclutamento, l'Asp 8 sembra abbia ritenuto tale numero sufficiente e pienamente rispondente ai servizi sanitari offerti, alle esigenze ospedaliere e dei suoi utenti. Non è così, Fazzino ricorda quindi, che dopo lo sblocco delle procedure di reclutamento del personale sanitario ad opera dell'assessorato alla salute, saranno 5.138 tra medici, infermieri e personale sociosanitario ed amministrativi le unità che saranno immesse nelle 18 aziende sanitarie ed ospedaliere della Sicilia attraverso la stabilizzazione dei precari, la mobilità e nuovi concorsi. A Siracusa sono destinati solo 68 infermieri, pochi, pochissimi per il Nursind. Chi vive infatti tutti i giorni la vita e la realtà ospedaliera, dice Fazzino, conosce bene quali sono le esigenze e le necessità di reparto dei degenti e di tutti gli utenti, i turni e il carico di lavoro che tutti gli operatori sanitari e infermieri in primis devono sopportare e realizzare. Tale critica è ancora più giustificata dal fatto che le unità assunte andranno a ricoprire i posti vacanti dei reparti di emergenza-urgenza, dal pronto soccorso alle terapie intensive, persistendo pertanto la carenza di personale nelle altre unità operative, le quali saranno ancora non pienamente capaci di assicurare i livelli essenziali assistenziali. Un 65enne di Ragusa ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Ragusa per intossicazione da monossido di carbonio emerso dal coma ieri sera dopo la prima seduta di camera iperbarica all'Umberto I di Siracusa. Il paziente sarà sottoposto adesso di nuovo a una seconda seduta nella stessa camera e poi ricoverato al reparto di medicina d'urgenza e l'Umberto prima l'uomo e le cui condizioni sono comunque migliorate e proseguirà il trattamento fino a poter ridurre del tutto il rischio di esiti tardivi di intossicazione da monossido di carbonio. Inquinamento dell'aria, le centraline di rilevamento sarebbero la chiave di volta ma sono insufficienti e mal gestita. Nella zona industriale siracusana le centraline di rilevamento al momento in funzione per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria sono insufficienti perché ci siano a disposizione dati certi sulle emissioni provenienti dalle raffinerie e dagli stabilimenti del petrolchimico siracusano. Dovrebbero essere installate anche nei punti nevralgici considerando che la puzza e i miasmi arrivano dappertutto. Sulla base della mappatura segnata dai periti della procura nell'ultima inchiesta che hanno stabilito il punto di provenienza e quello di contatto dei gas nell'aria in una sorta di protocollo d'intesa con i comuni e l'ARPA per regolare i controlli in maniera certa e precisa senza possibilità di traccheggio e manomissioni da parte di alcuno. Non è possibile davvero andare avanti nelle criticità delle poche centraline esistenti oltre al fatto che ogni tanto ci regalano cifre provenienti dal consorzio CIPA dove i soci sono le stesse industrie sospettate, ora alcune incolpate dalla procura di inquinare. La conferma nelle decine di segnalazioni che ogni giorno arrivano in prefettura, ai vigili urbani, all'ARPA, in questura e ai carabinieri. Subito dopo l'attenzione mediatica sull'inchiesta sull'inquinamento dell'aria della procura di Siracusa i cittadini sono più attenti ai miasmi che arrivano specie la notte anche in contrada isola. A prendere ancora più volte dichiarato la parlamentare Sofia Moddio che le centraline dell'ex provincia di Siracusa dal 1 gennaio 2016 non stanno fornendo i dati perché, come già successo in passato, non è stato rinnovato il servizio di manutenzione. È un fatto inaudito. I cittadini di una zona ad alto rischio come quella del SIN di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta devono avere il diritto di conoscere la qualità dell'aria che sono costretti a respirare ogni giorno. Ma alla messa in funzione della rete regionale per il monitoraggio dell'aria già in conferenza dei servizi, ritarda ad arrivare. L'ARPA Sicilia doveva prendere in carico l'intera rete di monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia dopo essere stata revisionata e ammodernata. Ma come al solito è rimasta lettera morta. 96.000 euro per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali che sono già a Siracusa. Un bando regionale potrebbe dare una mano. L'assessorato regionale delle infrastrutture ha recepito il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed approvato ed emanato all'avviso pubblico per l'attuazione della manifestazione di interesse per la presentazione di progetti finalizzato allo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. Il costo dell'intero programma a livello regionale è pari ad oltre un milione di euro. Con disposizione assessoriale è stata determinata la ripartizione provincia per provincia della somma complessiva tenendo presente il numero di incidenti che hanno visto coinvolti pedoni e i velocipedi rilevati dall'Istat relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. Alla provincia di Siracusa con 234 incidenti di pedoni e 129 di velocipedi è stata assegnata la somma di oltre 96.000 euro. Si è chiaro che il progetto presentato da uno o più enti dovrà rispettare le disposizioni vigenti del codice della strada e il legale rappresentante degli enti beneficiari del finanziamento assumeranno le funzioni di soggetti attuatori. Tutte le buste contenenti e le proposte dovranno pervenire entro le 12 del 7 settembre. Gli enti interessati dovranno far pervenire apposita istanza per ogni singolo intervento sottoscritta dalle legale rappresentante dell'ente. Si è chiaro, anticipa il presidente della Commissione regionale bilancio, Enzo Vinciullo, che nell'ipotesi in cui non dovessero pervenire istanze da parte della nostra provincia le somme verranno distribuite proporzionalmente ai restanti territori provinciali ebbene che i sindaci siano pronti ad intervenire. Parliamo adesso del nostro mondo, quello dell'informazione scritta. Gli editori collocano in cassa integrazione i giornalisti assunti e tirano avanti con i collaboratori sottopagati. Vediamo la spina come affronta l'argomento. Il diritto al lavoro negato, un trucco per risparmiare a spese di pantalone. Gli editori dei giornali in crisi collocano i giornalisti già in forza, in cassa integrazione e tirano avanti con i collaboratori esterni precari, a loro volta sottopagati e sfruttati. Una realtà tutta italiana dove negli anni passati il trucchetto è stato sperimentato dai grossi gruppi industriali che socializzavano i debiti e capitalizzavano i guadagni. Il dramma. I collaboratori esterni dei giornali a sua volta non sono pagati. Mesi di compensi arretrati per finire nel nulla. Ma la crisi è forte, così come l'esperanza di poter passare un giorno nei libri in matricola degli editori in maniera continuativa, effettivi. E nonostante la mancata corresponsione di parecchi mesi arretrati, sono pochi quelli che interrompono la collaborazione. Qui da noi non c'è gioco di squadra. Basta fermarsi di scrivere tutti insieme e i giornali non potrebbero essere in edicola la mattina seguente. Questa è un'azione democratica, del diritto al compenso al lavoro. Ma in realtà si tratta di pochi spiccioli. Di compensi che si aggirano mediamente dai 5 agli 8.000 euro l'anno. Negli ultimi anni in Italia sono spariti dalle edicole un numero indefinito di quotidiani. Il numero dei giornalisti assunti si è affievolito di migliaia di unità. Una caduta libera di meno 15-18%. Ogni testata ha la sua storia, ma il rischio è forte per l'informazione italiana. Il denaro che arriva dalle vendite non basta. Senza la pubblicità massiccia, i finanziamenti e le agevolazioni dello Stato, il sistema è saltato. Con il pericolo dell'affossamento della libertà di stampa e la pluralità dell'informazione per quel poco che è rimasto ancora in Italia. Ma la democrazia ha bisogno della stampa libera e democratica. L'informazione via internet, entrata a gamba tesa, ha fatto collassare la diffusione della carta stampata. I bassi costi di produzione sul web hanno disintegrato le barriere del buongiornalismo, dando via al mercato selvaggio e a un'informazione globalizzata e priva di contenuti di qualità e cultura. Il fenomeno si è aggravato con la pubblicità a buon mercato che attraverso il web ha ridotto i costi. Ma allo stesso tempo ha messo in crisi realtà imprenditoriali che prima vantavano fior di eccellenze nella diffusione di notizie. Il risultato è un'informazione povera, di massa e scadente. Bentornati, seconda parte del telegiornale, ambulanti abusivi nel mirino delle forze dell'ordine che hanno eseguito controlli nel centro storico. Ad Augusto è intanto bloccato una serata danzante senza autorizzazione. A seguito delle determinazioni raggiunte nel corso di riunioni tenutesi in prefettura, continuano i controlli amministrativi per contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione dei marchi, in particolar modo nelle piazze maggiormente frequentate da residenti e turisti nel centro storico di Ortigia. Durante il fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Ortigia, insieme con i militari dell'Arma e della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Municipale di Siracusa, hanno effettuato delle verifiche in numerosi esercizi commerciali e su venditori ambulanti e hanno sequestrato 250 cappelli, 220 paia di occhiali, 150 bracciali di bigiotteria, 10 spinner, 80 cinture, 200 collane di bigiotteria ed altra oggettistica varia. Infine, sono state elevate sei sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico. A seguito di un controllo amministrativo effettuato in un'attività commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, i poliziotti del commissariato di Augusta hanno denunciato il titolare di un chiosco per carenze igienico-sanitarie e per altre irregolarità amministrative, occupazione arbitraria di un'area pubblica. Senza la prevista autorizzazione di polizia nell'area Sita, nei pressi del chiosco, il titolare aveva organizzato una serata danzante, motivo per il quale, oltre al titolare dell'esercizio commerciale, veniva deferito il DJ che doveva tenere l'intrattenimento musicale. Atto vandalico contro la sede Cigelle di Lentini, la solidarietà del Partito Democratico Provinciale. La Camera del Lavoro di Lentini nel mirino dei malviventi. Durante la notte, ladri hanno divelto prima la rete di protezione di una finestra e poi l'infisso per introdursi nella sede lentinese della Cigelle. Una volta all'interno degli uffici sindacali, i malviventi sono messi alla ricerca di denaro e non trovandole, hanno vandalizzato i locali, buttando sotto sopra gli erredi e disperdendo per le stanze tutti i documenti e i certificati custoditi nei faldoni. L'intrusione è stata scoperta dagli impiegati comunali e la Camera del Lavoro attigua al municipio, la cui attenzione è stata attirata dalla finestra forzata. E così è scattato l'allarme sul posto dei carabinieri, il segretario della Camera del Lavoro, Paolo Censabella, al baglio dei carabinieri, le riprese delle telecamere di sicurezza del comune che potrebbero avere ripreso gli autori del gesto. Il Partito Democratico Provinciale di Siracusa condanna gli atti vandalici che hanno avuto per oggetto la sede della Camera del Lavoro di Lentini. La dichiarazione del segretario provinciale, Alessolo Giudice, che sostiene che la sede della Cigelle Lentinese è storicamente un punto di riferimento per i lavoratori di un'area importante nella provincia e si è sempre distinta per l'attività per garantire le condizioni di sicurezza e la dignità del lavoro. Un atto vandalico contro la Camera del Lavoro di Lentini è un atto grave e preoccupante perché, sostiene lo giudice, colpisce un'istituzione sociale e un presidio di legalità. L'acrimazione della Madonna Siracusa ieri sera alla cerimonia della benedizione del cotone. Siracusa anche quest'anno ha raccolto la chiamata della fede mariana. Il santuario della Madonna delle Lacrime ha accolto i fedeli siracusani in occasione del 64esimo anniversario della lacrimazione di Maria. In memoria degli accadimenti del 1953 e dei testimoni che asciugarono le lacrime sgorgate dal quadretto della Madonna Siracusana, alla presenza della città si è rinnovato l'appuntamento annuale della benedizione del cotone. La folla applaudente intervenuta in basilica ha potuto riapprezzare la vista della Madonna senza l'ausilio della teca di vetro, direttamente dalle mani di Don Aurelio che alzandola al cielo ha benedetto i fedeli. Quest'anno i pellegrini devoti al culto mariano hanno avuto per la prima volta la possibilità di apprezzare lo sguardo della Madonna da distanza ravvicinata. Attraverso una rampa d'accesso posizionata sull'altare maggiore i fedeli codiuvati dai volontari hanno potuto pregare con grande commozione ai pieti della teca che costudisce il quadretto della Madonna. La seata è poi continuata sul sagrato della cripta con la manifestazione Cantiamo a Maria, la lode dei cuori mariani con cui i fedeli hanno voluto esprimere la certezza nel poter confidare sulla presenza della Madonna nelle loro vite. Questa sera le celebrazioni continueranno con la consueta processione mariana per le vie della città. I fedeli accompagnati da fiaccole accese cammineranno con una copia dell'effigie mia colosa da piazza Duomo per giungere in santuario, evocando il gesto simbolico del pellegrinaggio. Dalla cattedrale ai piedi in pellegrinaggio verso la basilica che costudisce il quadretto mia coloso per stare accanto alla Madonna che ha versato le sue santi lacrime per consolare il nostro cuore. Così il rettore del santuario, Don Russo, ha presentato l'iniziativa alla città. Un cammino senza particolari soste, ma con il desiderio di portare la Madonna non solo lungo le strade della città, che ha benedetto con il suo pianto, ma per confermare il nostro desiderio di accoglierla nei nostri cuori. Giunti in santuario sarà possibile vegliare in preghiera fino alle ore 24. Il commovente pianto dei copiosi testimoni oculari arrivati davanti all'effigie miracolosa è stato un segnale inconfondibile dell'amore della città per Maria con la diffusa preghiera dei fedeli di poter riassaporare presto lo sguardo della Madonna nel prossimo futuro. Lo sport e il calcio si raccusa sconfitto all'esordio a Trapani. La dirigenza ha annunciato intanto due nuovi acquisti in settimana. Dopo la sconfitta di misura contro il Trapani all'esordio del campionato di Serie C, la dirigenza azzurra pensa a puntellare la squadra. Una compagine che non ha dispiaciuto, riuscendo a tenere testa alla squadra trapanese che, occorre ricordarlo, fino a qualche mese fa si trovava in Serie B e che è tra le squadre più accreditate alla vittoria del campionato. Per il presidente del Siracusa la squadra ha subito lo stress e l'esordio ma ci sarebbero le basi su cui lavorare. Cutrufo sostiene che in settimana la rosa sarà completata con l'innesto di due pedine importanti e si dice certo che la squadra possa svolgere un ruolo importante in questo torneo. A Trapani il Siracusa ha rischiato solo in quattro occasioni, compreso il gol subito allo scadere del primo tempo e ha sfiorato il gol con un'acrobazia di Nicola Mancino. Un bombiatico se si considera che l'esordio era piuttosto complicato visto che il Trapani, oltre che favorito alla vittoria, finale del campionato rappresenta un derby storico. Ancora un elogio ai tifosi del Siracusa, presenti in curva alla provinciale, un pubblico che per il presidente del Siracusa sarebbe già maturo per avere uno stadio senza barriere. Il siracusano Ivan Scimonelli ha bissato la vittoria nella regata internazionale Palermo-Monte Carlo. Scimonelli faceva parte dell'equipaggio dell'ottavo peccato nella qualità di timoniere e porta colori del Circolo della Vera, l'Akios di Siracusa. Con questo è tutto, il giornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie.